Anche Arkham City è dentro, è tutto pronto Partiti i cavalli della seconda Tris Scarta all'uscita dalle gabbie la Guapita che è fuori della competizione Molto veloce invece dall'interno Romanian Boy con la Giubba Fucsia Stessa velocità però e senza sudore di prenderlo steccato insieme a Bella Senzani Ma poi Witch Castle, una prima linea formata anche da Pure Grace e Gavid La seconda linea invece è formata a Mystery Fire, piglia tutto Poi ancora Isolina con all'esterno Arkham City e chiude in coda ma comunque a contatto All Crazy Now, mancano 400 metri al traguardo, senza sudore, lungo lo steccato Cerca di involarsi verso il traguardo ma è braccata all'esterno da Gavid ma anche Bella Senzani Ma ci prova anche Romanian Boy che si presenta davvero molto molto bene All'esterno gli altri che non vengono avanti, senza sudore, prova a scattare Lo fa in questo momento senza sudore che deve solo controllare in questa fase Per il secondo emerge Romanian Boy e per il terzo vediamo finire bene Al Crazy Now ma è terza Bella Senzani ma dunque vince senza sudore nei confronti della sorpresa Romanian Boy Numericamente dunque l'ordine d'arrivo è 4 senza sudore Poi per il secondo posto numero 8 di Romanian Boy Bello al tondino, è buono l'esordio in pista dritta per lui E dal terzo posto Bella Senzani ma numero 12 Dunque numericamente essendo una seconda Tris 4-8-12 L'ordine d'arrivo a vincere come detto senza sudore con Francesco Dettori in sella Danilo Pierdomenico, i colori sono quelli di Simone Ponti La quota al tot di 4,10 Stiamo rivedendo la frontale, praticamente nessun problema per senza sudore Che ha preso lo steccato, la testa della corsa e si è resa intangibile dal resto degli avversari Buono il finale da segnalare per AllCrazyNow Che dalle retrovie è riuscito a recuperare tante lunghezze Buono per la prossima Ma vincere è la 6 anni Senza sudore è tutto per la terza Grazie a tutti